assolutamente non tira aria buona al grande fratello VIP tra Antonino Spinalbese e Jaele Dedona. I due molto vicini all'inizio del reality si sono scambiati sì qualche attenzione, sì così per dire però, poi le cose si sono raffreddate un attimino con lo zampino geloso del marito della Dedona, il famoso Bradford Beck di cui ne abbiamo parlato un sacco, e allora i due hanno poi preso strade diverse ma sempre in qualche modo convergenti ogni tanto, ed è per questo che se Jaele ha qualcosa da dire ad Antonino lo fa tranquillamente, lo fa senza remore soprattutto dopo l'avvicinamento sospetto di Antonino nei confronti di Ginevra Lamborghini. L'ultima discussione è avvenuta ad esempio nel pomeriggio di domenica 5 e nella casa Jaele Dedona è sbottata dopo che l'uomo ha ricominciato a dire di voler uscire e tornare a casa, no? A quel punto la ragazza non ci vede più e afferma da scecata con un tono non proprio amichevole dicendo ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia? No, io non vedo l'ora di andare a casa. Senti, amo, dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua e ammettila la verità. E ancora, quando senti questi discorsi mi viene la pelle d'oca, in realtà lui fa quei discorsi. Ma come riportato anche dal sito Bici, se vuole Antonino può uscire tranquillamente senza nessunissimo problema dalla Porta Rossa e senza rincorrere in cose brutte tipo sanzioni o altro. Ma come è noto infatti a fine dicembre è stato chiuso il contratto filmato dai Geffini entrati nel mese di settembre. Per questo motivo Spinalvese può uscire senza grosse problematiche, come ad esempio invece ha fatto Luca Salatino. L'uomo invece, soprattutto dopo l'operazione, ha deciso di rientrare e far parte di quello che non vorrebbe essere lì, come se stesse recitando una parte. Ma non solo, perché in molti hanno notato che da quando è rientrato Antonino sembra abbia cambiato strategia. È sempre distante da ogni dinamica, da ogni guaio che c'è e si mette in mezzo a qualche pasticcio. Ora infatti sembra essere diventato tipo il vecchio saggio della situazione. Ha voglia di rivedere la figlia, come spesso dice. Lo dice a tutti, tra l'altro. Ma se proprio non ha voglia di stare lì dentro, ma che prenda la valigia, che passi dalla porta rossa, che se ne vada. E invece sta lì, Spinalvese. Secondo voi, il parrucchiere ha voglia di tornare al salone o restare in ferie ad accrescere la sua popolarità, che secondo me può essere l'opzione più probabile. Non è detto che sia, ma ammettiamolo, può darsi anche di sì. Questo è tutto per quanto riguarda questo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale o seguite la pagina. Mi raccomando, vi aspetto. Nel frattempo passate una buona giornata e a un prossimo video.